È rimesso nel cassetto, almeno per il momento, il progetto di un campus al San Martino. Qualcosa si muove per valorizzare almeno il parco dell'ex ospedale psichiatrico di via Castelnuovo a Como, anche se l'apertura completa resta oggi un miraggio alla luce dei vincoli normativi. È stata presentata questa mattina l'iniziativa insieme per il parco San Martino, che punta al recupero dell'area verde con una manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza dei sentieri e alla creazione di spazi riabilitativi per gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale. In programma anche la risistemazione del Bosco delle Parole Dimenticate e il potenziamento dell'area fitness. Il progetto insieme per il parco San Martino, messo a punto dall'azienda ospedaliera Sant'Anna, in collaborazione con l'associazione Jubilantes, la Fondazione Minoprio, Consorzio Il Solco e Intercral Como, prevede un investimento di 88 mila euro, di cui 62 mila finanziati da Fondazione Cariplo. Con questa azione, con questo progetto, tutti insieme per il parco San Martino, ci proponiamo innanzitutto di migliorare la sicurezza dell'area e poi di poterla piano piano ridestinare ad utilizzi che andranno concertati di comune accordo con chi ce lo chiederà. Il progetto punta dunque a valorizzare l'area per restituirla in parte alla città, ma non si può parlare oggi di apertura al pubblico di un parco il cui destino è comunque legato all'accordo di programma che prevede nell'area la creazione del campus, un progetto sul quale in molti puntano ancora. L'obiettivo del progetto, o comunque l'obiettivo che credo abbiano tutti gli interlocutori, è quello di vedere il parco messo a disposizione della città. Oggi sappiamo che la legge non lo consente perché è un'area privata e credo che bisogna lavorare tutti perché questa area di città sia restituita alla collettività, meglio se con il coinvolgimento delle università. Ne farebbe una città universitaria che... Grazie a tutti.